Oggi vi presento l'albo cartonato Gira Giramondo di Katia Rossi ed Elettra Riolo per pulci volanti. Gira Giramondo nasce come playlist del canale YouTube Nati per leggere il verbano Cusio Ossola e ha accompagnato le famiglie durante le lunghe giornate del primo lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state raccolte voci che cantano ninnename tradizionali e filastrocche da tutto il mondo, donate dai lettori volontari e amici del progetto Nati per leggere Piemonte e si sono fuse con le illustrazioni di Elettra Riolo dando origine a brevi animazioni musicali. Diventa ora anche un albo illustrato in cui test e illustrazioni sono il filo rosso di un'unione di tutte le famiglie. L'iniziativa è stata realizzata dal sistema bibliotecario del VCO nell'ambito del progetto Nati per leggere Piemonte con il contributo della città di Verbania e il sostegno della regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo. Per accompagnare la lettura si potranno ascoltare tramite scansione di un QR code presente sul libro la melodia e il canto Gira Giramondo realizzati dall'Associazione Matura Infanzia. Con la semplice scansione di un altro QR code si potranno visualizzare i video sonori della playlist YouTube di Nati per leggere VCO. Questo libro è Gira Giramondo di Katia Rossi e Lettra Riolo, Nati per leggere Piemonte, edito da Pulci Volanti.